Cari figli, voi che cercate di presentare a Mio Figlio ogni giorno della vostra vita, voi che provate a vivere con Lui, voi che pregate e vi sacrificate, voi siete la speranza in questo mondo inquieto, voi siete i raggi della luce di Mio Figlio, un Vangelo vivente, e siete i miei cari apostoli dell'amore. Mio Figlio è con voi, egli è con coloro che pensano a Lui, che pregano. Allo stesso modo, però, egli aspetta pazientemente quelli che non lo conoscono. Perciò voi, apostoli del Mio Amore, pregate col cuore e mostrate con le opere l'amore di Mio Figlio. Questa è l'unica speranza per voi, ed anche la sola via verso la vita eterna. Io, come Madre, io sono qui con voi. Le vostre preghiere rivolte a me sono per me le più belle rose d'amore. Non posso non essere là dove sento profumo di rose. C'è speranza. Vi ringrazio.